Cavalli abbandonati, denutriti, allo stato brado, vagano in un vallone in località Iaconti a Dragonea, Vietri sul mare. Sono stati abbandonati da un contadino che non riesce più a gestirli ed allevarli. Ora vagano per la montagna, distruggendo tutto quello che trovano, colture comprese, con il rischio che possano assalire anche persone che incontrano sulla loro strada. Vivono in quelle che una volta era la loro stalla, oggi fatiscente ed abbandonata. Le immagini che vi mostriamo documentano quello che da diverse settimane sta succedendo. Ma non è finita. La zona è ormai diventata terra di nessuno, una vera e propria discarica a cielo aperto. Testimoni raccontano di camion che, preferibilmente di sera, vanno a scaricare materiale di risulta di lavori edili. Si tratta di rifiuti speciali che dovrebbero andare in discarica. C'è anche una sorta di autodemolizione con vetture abbandonate, alcune delle quali sommerse da colate di fango che si sono succedute negli anni. Questo, invece, è un vecchio furgone che qualcuno ha pensato di utilizzare come un pollaio. Una storia, una come tante, di degrado e abbandono, dove inquinatori senza scrupoli vanno a depositare di tutto. È il caso, anche alla luce della nostra testimonianza, che qualcuno vada a controllare e bonificare l'intera zona.